Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti all'Attenti al Lupo. Stato parliamo dei legumi, quanto sono importanti per la nostra salute, per il nostro benessere, ma anche magari delle ottime zuppe di legumi che in questo periodo sicuramente sono ben volute un po' da tutti. Ne parleremo con i nostri ospiti che vi presento subito. Buonasera alla dottoressa Carla Guerra, dietista e nutrizionista dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Ospedale Spallanzani di Roma. Buonasera, dottoressa. Buonasera a Lorenzo Bazzana, responsabile dell'Ortofrutto della Coldiretti. Buonasera, Bazzana. Buonasera. E allora, come sempre, Maris, buonasera anche a te. Buonasera, buonasera a Giuseppe. Partiamo dalla lettera. Iniziamo dalla lettera, ma prima di tutto dobbiamo ricordare ai telespettatori che come ci ha mandato la domanda alla persona che ci ha scritto la lettera di questa sera, anche voi potete fare le vostre domande partecipando alla diretta. Come? Semplicemente chiamando questo numero che vedete in onda. È il nostro numero verde, 800 508 990. È gratuito anche per i telefoni mobili, quindi per i cellulari. Se volete potete anche iscriverci su Facebook o su Twitter. Allora, Giuseppe, dicevi della lettera. Andiamo subito a leggere cosa ci ha scritto Sofia e perché abbiamo scelto la sua lettera. Lei ci dice, cari amici di Attenti al Lupo, vorrei imparare ad utilizzare meglio i legumi nella mia alimentazione perché so fanno molto bene e sono degli ottimi sostituti della carne. Purtroppo ogni volta che finisco di mangiarli il mio stomaco si gonfia oppure si presentano dolori intestinali. Potete suggerirmi un modo per trattarli e cucinarli che eviti quindi questi fastidiosi effetti collaterali? E tra tutti i legumi quali sono da preferire? Quelli secchi o quelli freschi? E ringraziamo e rispondiamo a Sofia d'Ascoli Piceno. E allora dottoressa, il primo quesito è per lei. Come evitare questi effetti fastidiosi collaterali di cui ci parlava Sofia d'Ascoli Piceno? Allora, questi effetti sono sicuramente dovuti alla quantità di fibra. Infatti i legumi sono ricchi di fibra e nella fibra ci sono degli oligosaccaridi appunto che tendono a fermentare. Intanto bisogna abituarsi all'uso dei legumi, quindi bisogna mangiarli più spesso in piccole quantità. E poi esiste nel mercato la possibilità di acquistarli decorticati, quindi privi della parte esterna più ricca di fibra. Un'altra attenzione che si può fare è quella di passarli e quindi di eliminare con il passaverdure la buccia esterna. Soprattutto chi ha diverticoli, ha problematiche legate agli aspetti gastrointestinali, deve fare in questo modo? Assolutamente sì. Chi soffre di colon irritabile, chi ha una diverticolite, deve consumarli in piccole quantità e passati. Attenzione non frullati perché frullandoli la buccia rimane all'interno e inglobano anche aria, per cui i disturbi aumentano. Invece a Bazzana richiedo, la domanda è quali sono da preferire, quelli secchi o quelli freschi? È una domanda parziale perché in effetti non ci sono solo quelli secchi e quelli freschi, ci sono anche quelli in scatola. Quindi abbiamo in sostanza tre tipologie di prodotti che noi possiamo utilizzare. Quali sono le differenze? Senza poi dimenticare addirittura quali sono i gelati. Quindi abbiamo diverse armi al nostro arco. Allora, sicuramente quello fresco sarebbe il prodotto migliore. Però sappiamo che il legume fresco è disponibile pochissimi mesi all'anno e poi comunque comporta dei problemi perché bisogna sgranare, c'è tutta una serie di lavorazioni che devono essere fatte. I legumi secchi sono il modo migliore per poterli avere a disposizione. Sono un po' laboriosi perché li dobbiamo reidratare. Quelli surgelati, dal punto di vista nutrizionale e guardo la nutrizionista, probabilmente sono quelli conservati meglio, nel senso che la surgelazione con le alte temperature probabilmente è quella che preserva meglio le proprietà del prodotto. Quelli in scatola sono un buon compromesso, però spesso sono aggiunti di sale e quindi anche qui bisogna stare attenti perché a un prodotto che di per sé è un'eccellenza nutrizionale se c'è troppo sale si rischia poi di avere altri problemi. Dottoressa, insomma, fra le quattro tipologie che bisogna preferire? Come diceva Bazzana? Sicuramente il fresco, il surgelato e il secco. E il secco, insomma, nell'ordine. Allora vi faccio vedere il primo cartello che abbiamo preparato perché faremo una sorta di viaggio tra i legumi che sono straordinariamente buonissimi. Il primo cartello lo vediamo insieme, chiedo alla regia di farlo vedere, lo vedete alle mie spalle, i ceci. Allora, Bazzana, ci sono ceci italiani, ceci che arrivano da fuori, qual è la percentuale? Lei chiederò soprattutto questo. Allora, nel settore dei legumi noi siamo molto dipendenti dall'estero. Importiamo tantissimi legumi secchi che poi nel nostro paese vengono reidratati oppure mantenuti secchi e essere reidratati messi in scatola una volta che sono stati appunto reidratati e cotti. Dal punto di vista dei ceci abbiamo in questi ultimi anni una forte ripresa della coltivazione di ceci in Italia. C'è però un problema. Il problema è che non è obbligatoria l'etichettatura di origine dei ceci. Quindi quando noi acquistiamo i ceci, se sono acquistati ad esempio secchi direttamente da un'azienda agricola, questo ovviamente sarà il prodotto dell'azienda. Ad esempio nei nostri mercati di Campagna Amica vendiamo i ceci, sono venduti i ceci dei nostri produttori. I ceci in scatola solo alcuni sono italiani. Leggiamo attentamente l'etichetta perché chi fa ceci italiani ha il vanto di scriverlo e quindi dice che questi sono ceci 100% italiani. Quindi bisogna dare molta attenzione a quello che c'è scritto sopra, in particolare l'etichetta perché ci dà proprio una fotografia. Che però non è un'etichettatura obbligatoria. Quindi dove non troviamo niente, molto probabilmente sono ceci di importazione. Però quelli che lo fanno in Italia magari sono quasi a chilometro zero e quindi sono interessati a sottolineare questo aspetto. Sui ceci, chi li può mangiare e chi non li può mangiare? Ci sono delle patologie per cui bisogna evitare un poco? Allora, i ceci sono meravigliosi, hanno un buonissima qualità proteica e li possono mangiare tutti, a meno che non ci sia un colon irritabile o un'allergia specifica. La cosa meravigliosa dei ceci è che hanno una buona quantità di lipidi dopo la soia e questi lipidi sono esteroli vegetali che sono molto utili per chi ha l'ipercolesterolemia. Ecco, ma pasta e ceci, perché è quello che poi mangiamo. Noi accoppiamo un po' tutti i legumi con la pasta. È un giusto abbinamento? È un abbinamento perfetto perché le proteine dei ceci che sono mancanti di alcuni amminoacidi unite ai cereali formano un piatto ottimo al pari di una bistecca. Secondo cartello, partiamo dalla dottoressa, sono i fagioli. E lì bisogna fare un po' di attenzione, non bisogna esagerare, immagino. Allora, per i fagioli non bisogna esagerare, ma come non bisogna esagerare con qualunque alimento. Sono ricchi di ottime proteine, di calcio, di ferro e possono essere utilizzati anche loro, soprattutto abbinati con dei cereali e sono un piatto ottimo. Sui fagioli? Com'è la situazione? Peraltro, insomma, sono fagioli particolari questi che vediamo anche nella fotografia? Sì, beh, quello centrale è il cosiddetto fagiolino dell'occhio che molto spesso viene fatto con le cotiche. Ci sono anche delle preparazioni interessanti con i fagioli nella nostra gastronomia. Lì però la nutrizionista sobalza, già le cotiche... Ebbè, ma una volta ogni tanto uno si può permettere... Una volta ogni tanto ci dà il permesso. E poi è sempre la dose che fa la differenza. Il quantitativo è importante. Però dal punto di vista dei fagioli noi abbiamo dell'eccellenza, abbiamo dei fagioli che sono stati riconosciuti anche dall'Unione Europea, quindi i fagioli dopo i GP ne abbiamo sicuramente di importanti. Attenzione anche in questo caso all'etichettatura perché importiamo tantissimi fagioli. Di quelli in scatola soltanto alcune tipologie, tipo il borlotto, sono coltivate in Italia. Quindi l'etichettatura fa sempre la differenza. Tra pochissimo vedrete proprio da vicino se magari è un'azienda, un'azienda importante dove si producono tutti questi legumi ed è davvero un bel vedere. Ma prima vediamo le domande che arrivano da casa, Maris. Sì, allora, in tantissimi ci hanno scritto su Facebook ognuno ci dice i propri accostamenti, i loro piatti preferiti, i loro legumi preferiti. Ecco, Chiara ad esempio ci dice che il suo preferito è i minestroni di ceci e fagioli oppure piselli spezzati e patate. Ecco, quindi da qui la domanda ma è giusto abbinare più legumi nello stesso piatto come ad esempio i ceci e i fagioli o sono troppe fibre? Dottoressa Guerra. No, assolutamente no. L'importante è la quantità. Se in un piatto mettiamo 30-40 grammi di pasta e 120 grammi di legumi tra fagioli e ceci va benissimo. 120 grammi cotti, peso cotto. E allora vogliamo andare in questa azienda dove c'è la produzione di legumi in provincia di Viterbo vediamo di che si tratta. Siamo andati a questa azienda agricola dove ci sono produzioni biologiche ma anche tanti tanti legumi interessanti. Vediamo. La nostra azienda è specializzata da più di 20 anni nelle coltivazioni dei legumi cereali sia convenzionali che biologici. Le nostre specializzazioni sono maggiormente sulle produzioni tipiche tra cui la lenticchia tonano il fagiolo del purgatorio il ceci del sulco dritto il fagiolo giallo di San Lorenzo il verdolino a Cresiano il farro del pungolo. Questi prodotti sono tutti iscritti nell'elenco tradizionale della regione Lazio. La nostra terra diciamo è particolarmente evocata per la produzione dei legumi perché è povera di calcio e ricca di potassio e questa diciamo dà ai nostri legumi una particolarità aggiunta dove hanno una buccia molto sottile e hanno un tempo di cottura molto inferiore agli altri diciamo. Per quanto riguarda il fagiolo del purgatorio questa è una delle coltivazioni più antiche e si parla già dal 1600 perché c'è il pranzo del purgatorio che viene fatto dalla confraternita degli incappucciati il mercoledì delle ceneri. Sono circa 1400 persone che vengono da tutta Italia per degustare il piatto di punta che è il fagiolo del purgatorio. Qui abbiamo il cece del solco dritto dove anche qui c'è una storia la tiratura del solco dritto che viene fatta il 14 agosto di ogni anno e questo solco se la leggenda dice che se il solco viene dritto l'annata è buona se il solco viene storto purtroppo l'annata non viene buona. Da questi prodotti poi abbiamo fatto dei derivati tipo la pasta biologica di legumi 100% integrale di legumi e poi siamo andati anche a fare dei prodotti pronti tipo la zuppa del brigante il fagiolo del purgatorio tutti i prodotti tipici messi anche in vaso. Il nostro punto di forza è la tracciabilità totale dei nostri prodotti in quanto seguiamo tutta la lavorazione dalla semina alla lavorazione e alla selezione all'imbustamento e alla commercializzazione. Quindi possiamo dire veramente che i nostri prodotti dalla terra alla tavola. Insomma abbiamo visto davvero una gran bella produzione ma arrivano tante domande Maris? Arrivano tantissime domande ecco una domanda che ci arriva ecco che cosa ne pensano gli esperti dei legumi in scatola già cotti per praticità spesso Da un punto di vista della praticità sono eccezionali ripeto come si diceva prima bisogna stare attenti al sale cioè molto spesso sono addizionati di sale e in certi casi anche di zucchero per renderli più palatabili bisogna lavarli bene in acqua corrente in modo tale da togliere sale e zucchero. Quindi in qualche modo chi ha ipertensione è meglio che eviti e c'è la pressione alta assolutamente sì chi soffre di ipertensione i cibi in scatola già salati sono assolutamente da evitare è meglio partire da un fagiolo secco messo in ammollo e poi cotto. E allora tra pochissimo parleremo anche degli altri perché abbiamo le lenticchie che sono straordinarie io vado pazzo per le lenticchie che sono buonissime ma prima c'è il momento del vero falso la risposta e l'affermazione è la seguente ossia per facilitare la cottura dei legumi è utile aggiungere nella pentola del bicarbonato è vero o falso? Lo scoprirete tra poco. Entriamo in studio si parla di legumi anche quando c'è la pubblicità e allora Maris e allora abbiamo lasciato i nostri telespettatori con una curiosità e dicevamo a loro è vero che per facilitare la cottura dei legumi è utile aggiungere nella pentola il bicarbonato non so a casa che cosa abbiano risposto se abbiano indovinato ma la risposta corretta è vero o falso? Lo chiediamo a Bazzana Dicono che sia vero nel senso si aggiunge il bicarbonato per rendere più morbidi i legumi E arriviamo alle lenticchie che dicevo io amo tantissimo vediamo il cartello lenticchie subito un'indicazione la chiedo prima a Bazzana ma insomma ci sono tante tante lenticchie famose nel nostro paese cioè quelle di Ventotene poi c'è Castelluccio insomma sono tanti posti dove vengono coltivate queste lenticchie eppure ne importiamo tantissime perché? Eppure importiamo circa 34 milioni di chilogrammi di lenticchie a fronte di 2-3 milioni di lenticchie che vengono prodotte in Italia perché? perché l'industria utilizza tantissimo le lenticchie secche da mettere in scatola quindi se vogliamo essere sicuri di comprare delle lenticchie italiane andiamo a comprare direttamente dall'agricoltore dal contadino ripeto nei mercati le trovate nei sacchetti già pesate ed è sicuramente sono secche oltretutto la lenticchia a differenza degli altri legumi ha bisogno di essere idratata pochissimo nel senso che fagioli piuttosto che i ceci magari bisogna lasciarli 24 ore in ammollo le lenticchie le possiamo mettere nell'acqua e cuocerle direttamente perché hanno bisogno di pochissima acqua chi ha una carenza di ferro deve mangiare lenticchie ma la dottoressa Guerra ci svelerà un qualche cosa che è importante lo diceva poco prima di rientrare in onda ce lo può dire dottoressa assolutamente sì per assimilarlo nel migliore dei modi per assimilarlo nel migliore dei modi bisogna aggiungere della vitamina C perché il ferro di tipo vegetale è meno biodisponibile per cui a fine pasto mangiare una bella porzione di agrumi o aggiungere nel limone nell'acqua può favorire l'assorbimento del ferro contenuto nelle lenticchie domande allora Marcello ci ha mandato una mail prima abbiamo parlato di fagioli dei tanti tipi di fagioli dice che i fagioli secchi contengono più calci di fagioli freschi ma anche se sono surgelati o surgelando e magari vanno perse le proprietà assolutamente no le proprietà i valori nutrizionali non cambiano assolutamente per cui possono prendere tranquillamente legumi surgelati o secchi e allora altra domanda un'altra domanda invece Stefano ci dice invece se vado a comprare i legumi sfusi ecco perché e qui mi faccio la bustina adesso a che cosa devo stare attento? sui legumi sfusi secondo me bisogna stare attenti innanzitutto all'origine perché l'origine dei legumi sfusi non è detto che sia certa intanto è vero che io preferisco comprare invece i legumi già in sacchetto in cui ci sia l'etichetta possibilmente dal produttore quindi bisogna stare attenti alla provenienza e a come sono conservati perché ovviamente questi contenitori oppure i sacchi in cui sono contenuti devono comunque rispettare le norme igienico-sanitarie previste dalla legge in una battuta come conservare le migliori dei modi a casa? Bagziana beh i legumi ovviamente quando sono secchi devono essere mantenuti in un posto che sia fresco che non dia il ritorno di umidità cioè che non ci sia umidità che possa far marcire o riprendere acqua al prodotto per poter essere conservato il più a lungo possibile quindi un luogo fresco nel punto di vista della temperatura ma non umido per evitare che si vengano a riassorbire Altro cartello arriviamo ai piselli dottoressa ma i piselli è sempre meglio abbinarli con un bel piatto di pasta pasta e piselli o una zuppa che cosa dobbiamo scegliere cosa ci fa bene davvero? Allora possono essere abbinati sia in una zuppa di verdure e in questo modo sono un pochino più leggeri più digeribili e invece insieme alla pasta come abbiamo detto anche prima ne potenzia il valore nutrizionale perché forma delle proteine di alto valore biologico i piselli sono un po' più dolcetti hanno un pochino meno proteine rispetto agli altri legumi però hanno anche una pellicina più sottile per cui chi vuole iniziare a mangiare più spesso legumi può iniziare dai piselli Sui piselli com'è la situazione? Fotografiamo un po' la situazione nel nostro paese La situazione sui piselli è sicuramente migliore nel senso che sia nei piselli in scatola che nei piselli surgelati che nei piselli secchi c'è un'importante produzione nazionale quindi sui piselli è già più difficile trovare piselli di importazione ovviamente anche il pisello non ha l'obbligo Quali sono le aree dove si producono in maniera? tantissimi legumi ma soprattutto ci confessa che lei per questione di praticità purtroppo ormai le tempistiche di oggi così se lo impediscono compra le zuppe quelle già pronte con i legumi voleva sapere dalla nutrizionista se hanno lo stesso valore nutrizionale di una zuppa fatta da sé e invece voleva sapere dal dottor Bazzana se possiamo fidarci o meno Allora cominciamo dalla dottoressa Guerra Sì assolutamente sì il mercato offre delle zuppe meravigliose che vengono conservate a temperatura di refrigerazione sono molto simili a quelle fatte in casa sono conservate in delle ciotole e gli ingredienti sono pochissimi quindi sono legumi verdure e cereali molto spesso come abbinamento olio e pochissimo sale per cui queste zuppe sono sicuramente da promuovere bisogna stare un pochino più attenti a quelle fuori dal frigorifero che hanno una lunga conservazione ma che hanno anche una lunga etichetta con all'interno molto spesso anche fruttosio maltodestrine ed altre sostanze che dal punto di vista nutrizionale non sono la regola è sempre quella sull'etichetta meno ingredienti ci sono sull'etichetta è di qualità il prodotto è così un po' per tutto come giustamente diceva la dottoressa il fatto che sia nel reparto refrigerato dà comunque una garanzia in più significa che comunque il prodotto non contiene conservanti oggi si fa molta attenzione a non aggiungere ad esempio il glutammato che è sempre stato un problema sempre per il discorso del sale dell'eccesso di sale quindi leggiamo gli ingredienti scegliamo bene attenzione soprattutto a quello che riguarda appunto conservanti coloranti aromi artificiali che possono alterare appunto il gusto del prodotto altro cartello siamo arrivati ai fagiolini eccoli qui i fagiolini dottoressa l'abbinamento migliore qual è per i fagiolini? spesso li utilizziamo soprattutto come contorno con la carne infatti i fagiolini a differenza degli altri che sono più tra un primo e un secondo considerati dal punto di vista nutrizionale i fagiolini sono proprio un vero contorno e sono semplicemente vanno mangiati con tutto il baccello a differenza anche degli altri hanno sicuramente meno carboidrati più fibra molte vitamine molti sali minerali e passiamo ad un altro cartello così qui il problema sussiste le fave perché vediamo spesso tantissimi cartelli nei negozi perché si rischia si rischia si rischia veramente la vita con uno shock anafilattico se si soffre di favismo per cui se si ha questo problema bisogna sempre stare attenti quando si entra nei supermercati o nei luoghi dove possono essere presenti questi legumi c'è una buona produzione nel nostro paese di fave vero? si c'è una buona produzione sono anche un prodotto caratteristico e tipico delle nostre delle nostre campagne ricordiamo che ci sono appunto soprattutto in primavera dei piatti con le fave la gita fuoriporta pecorino e fave un classico italiano almeno speriamo che mantengono queste tradizioni assolutamente è meglio fave e pecorino che altre cose da mangiare infatti Riccardo ci chiedeva se fave e pecorino oltre a essere buonissimo per noi se era un giusto accostamento allora sicuramente c'è un eccesso proteico perché sono due alimenti ricchi di proteine però una volta l'anno ma sì ma anche due volte l'anno così come lenticchie e cotechino piuttosto che fagioli e stalsicce però ogni tanto si può fare altra domanda Marisa altra domanda e ne arrivano tantissime sulle lenticchie a proposito Diego ci dice ho sentito ho visto spesso le lenticchie rosse volevo sapere se fanno meglio oppure se sono insomma che sono le lenticchie rosse magari la grande biodiversità delle coltivazioni nazionali ci sono anche le lenticchie rosse è gusto personale nel senso che ovviamente è un ecotipo differente può essere interessante dal punto di vista coreografico perché nel piatto danno un colore differente dal punto di vista diciamo del gusto del sapore è un fatto personale per cui sicuramente sono da apprezzare abbiamo lenticchie di diverse forme di diverse dimensioni di diversi colori prima lei ha fatto una differenziazione delle tipologie come prezzi si equivalgono? no i prezzi possono essere anche molto differenti perché queste piante queste culture questi legumi hanno anche rese molto differenti per cui ci sono legumi che hanno magari delle rese bassissime e possono anche costare di più penso ad esempio al fagiolo Lamonna che è una denominazione riconosciuta dall'Unione Europea il fagiolo Lamonna disciplinare viene ancora coltivato con le frusche all'ampicato appunto su questi sostegni raccolto a mano e quindi evidentemente il costo è diversare è molto molto elevato allora vediamo l'ultimo cartello i lupini è lì? dottoressa qualcosa chi dobbiamo consigliarlo? i lupini hanno tutte le caratteristiche positive dei legumi dal punto di vista nutrizionale però in genere si mangiano oltre al pasto quindi sono un in più ma soprattutto un eccesso di sale ed è per questo che non sono consigliati in tutte le persone soprattutto in quelle che soffrono di pressione alta quindi pochi bisogna mangiare ancora domande? ancora domande ecco ci chiedevano i telespettatori quali sono gli accostamenti migliori ecco una regola che magari possa valere un po' per tutti i legumi se ci sono degli accostamenti o un determinato alimento che amplifichi le proprietà dei legumi stessi sì l'accostamento migliore è quello con i cereali quindi con pasta riso orzo farro nella proporzione di più o meno 30-40 grammi di cereali e come ho detto prima 120-160 grammi di legumi già cotti abbiamo visto tanti cartelli tante fotografie con i legumi però ora Lorenzo Bazzano ci svela insomma una sorpresa che io non sapevo perché l'arachide pure l'arachide è un legume è così? sì beh l'arachide è un legume è un legume un po' particolare perché cresce si sviluppa sottoterra abbiamo una piccola coltivazione di arachidi anche in Italia per cui da questo punto di vista arricchiamo un po' quello che è il panorama diciamo delle piante proteiche italiane con anche l'arachide un attento osservatore come Bazzano tra poco chiederò qualche istante il piatto preferito con i legumi abbiamo anzi un minuto ci dice l'assistente di studio quindi dobbiamo subito fare questa la scelta tra i due ospiti qual è il piatto il legume preferito a Bazzano è l'abbinamento che privilegia ma il legume preferito probabilmente la lenticchia però il piatto sicuramente la minestra con i ceci con parte dei ceci frullati con il rosmarino e parte dei ceci invece interi che ha una bella un'indicazione per la serata la dottoressa Guerra invece qual è il piatto sicuramente l'humus di ceci che è un piatto molto adatto anche a tutte quelle persone che appunto hanno problemi di colon irritabile perché è una crema di ceci quindi l'humus di ceci l'humus di ceci abbiamo delle idee per stasera insomma grazie davvero alla dottoressa Carla Guerra dietista nutrizionista dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Ospedale Spallanzani di Roma e grazie a Lorenzo Bagzana responsabile ortofrutta della Coldiretti è tutto per questa sera è tutto abbiamo preso le indicazioni necessarie per la sera cosa farei stasera? lenticchie tutta la vita lenticchie e allora grazie ovviamente anche a voi per le vostre indicazioni i vostri suggerimenti che ci avete dato vi auguriamo un buon procedimento di serata a tutti quanti voi attenti al lupo torna domani alle ore 19 parleremo degli aumenti per le bollette quindi staremo attenti e faremo un focus proprio domani alle 19 arrivederci a tutti